E la Cina esprime irritazione ma il summit delle democrazie di Biden non è l'unico motivo di scontro con l'Occidente. Anche le origini della pandemia fanno discutere e proprio a Wuhan dove tutto è cominciato c'è il nostro corrispondente Marco Clementi. A due mesi dalle Olimpiadi Invernali di Pechino si allunga dunque la lista dei paesi che hanno annunciato il boicottaggio diplomatico. Marco a te per gli ultimi aggiornamenti. Sì boicottaggio diplomatico alle Olimpiadi americano e non solo anche Gran Bretagna, Canada e Australia seguiranno gli Stati Uniti non la Francia e non l'Italia che riceverà proprio da Pechino il testimone per i giochi invernali del 2026. Dunque botte risposta tra superpotenze, Stati Uniti e alleati la pagheranno cara, tuona Pechino che aggiunge lo sport non ha nulla a che vedere con la politica. Il CIO minimizza, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale BAC dice il boicottaggio avrà un effetto limitato sui giochi ma a Pechino nel merino degli Stati Uniti anche per la repressione degli Uiguri. Dopo il Senato anche la Camera statunitense approva il blocco, la legge che impedisce di importare beni prodotti con i lavoro forzati della minoranza islamica. L'Antitrust ha deciso una sanzione di un miliardo e cento milioni per Amazon per abuso di positivi.